Pochi mezzi e carenza di personale, questa ormai cronaca in Sicilia. I Vigili del Fuoco, del ente all'USB, hanno inscenato una manifestazione di protesta questa mattina a Catania. Sentiamo. Un nuovo sciopero, vecchie problematiche. Oggi siamo tornati qui a protestare con lo sciopero regionale di questi Vigili del Fuoco Sicilia perché ci sono delle problematiche ormai a parte, che c'è la carenza di personale, mezzi non adeguati al nostro territorio, dagli incendi sicuramente passeranno più saggi e gli organici sono sempre più ridotti. Da qui a poco tempo andranno in pensione tanti colleghi e non vengono di più in guati come il fuoco. Se non si interviene a livello centrale, purtroppo la situazione in Sicilia diventa critica, dove siamo costretti quotidianamente a chiudere gli staccamenti. Questo non è ammissibile in un territorio come la Sicilia, dove ci sono tantissimi interventi e tantissime emergenze si susseguono. Noi come organizzazione sindacale staremo sempre sul pezzo e chiediamo ai colleghi di partecipare agli scioperi perché se siamo in tanti la politica e l'amministrazione sicuramente darà più seguito alle nostre richieste.